Anche il Rotary Club Scicli scende in piazza per combattere la polio. In occasione della giornata mondiale della polio che si celebrerà il prossimo 24 ottobre, il club ciclitano The Rotary sta infatti mettendo in atto una serie di iniziative finalizzate alla raccolta fondi per eradicare finalmente questa malattia, altamente contagiosa e che dalla fine del 1800 ha causato milioni di vittime tra i bambini in tutto il mondo. Grazie al grande impegno del Rotary International, in prima linea a partire dagli anni 70 nella battaglia contro la polio, la malattia è scomparsa da quasi tutti i continenti ma restano solo due nazioni in cui esistono dei focolai e deve essere completata la vaccinazione di tutti i bambini. Con la loro presenza nelle piazze, i componenti del Rotary Club, che a Scicli si sono dati appuntamento domenica scorsa in piazza Busacca, offrono prodotti di aziende locali in cambio di un piccolo contributo per consentire una buona raccolta fondi per raggiungere i bambini che ancora non sono stati vaccinati. Oggi siamo in piazza perché vorremmo avere una buona raccolta di fondi per aiutare il Rotary International nell'eradicazione della poliomielite a livello mondiale. Tenete conto che la poliomielite è una malattia contagiosa, altamente invalidante e anche mortale. E allora rimangono solo due nazioni, Afghanistan e Pakistan, in cui deve essere portata la vaccinazione. Dobbiamo farlo, per farlo c'è bisogno di fonti, ecco che siamo qui in aiuto al Rotary International per raggiungere questo obiettivo. All'iniziativa messa in piedi dal Rotary Club Scicli stanno contribuendo anche gli scout e l'associazione Passione Moto che per mano del presidente Memmo Cuffaro ha contribuito alla causa non solo con un giro in moto tra le vie del paese per attirare l'attenzione sull'iniziativa ma anche con un sostegno economico. Il Rotary Club Scicli tornerà in piazza domenica prossima con un gazebo in via Mormino Penna dalle 9 alle 21. Gli appuntamenti si concluderanno il 24 ottobre in occasione della giornata mondiale dell'Appolio con una raccolta fondi organizzata all'interno di una pizzeria di Scicli alla presenza anche di Giuseppe Ferrera, direttore del servizio di epidemiologia dell'Asp di Ragusa con una discussione che avrà come tema vaccini, vaccinazioni, bugie e verità.